Possiamo invertire questo rapporto micidiale che si è creato tra una indipendenza di natura corporativa e la mancanza di qualsiasi forma di responsabilità. Il Consiglio o l'Associazione Magistrati di cui il Consiglio costituisce il braccio armato, io lo dicevo sempre quando ero in Consiglio, facendoli arrabbiare moltissimo, almeno all'inizio. Hanno occupato tutti i posti di rilievo istituzionale, cioè qualsiasi elementi, qualsiasi traccia di responsabilità rispetto a un'espansione di una indipendenza di tipo corporativo, ormai secondo me è difficile nutrire grandi speranze di riforma, perché sono presenti e incidono sulle decisioni a tutti i livelli. Pensa, la Corte Costituzionale non ha mai giudicato in maniera contraria le aspettative dei magistrati, non per le loro retribuzioni, non per i loro poteri. Perché? Perché il Consiglio, perché la Corte Costituzionale guardala un po' come composizione. Un terzo sono eletti dagli stessi magistrati e tutti gli assistenti di studio, o quasi, sono magistrati ordinari. Ci sono cioè 35 magistrati ordinari che o giudicano direttamente o aiutano tutti gli altri a giudicare le questioni che vengono all'attenzione della Corte Costituzionale. Anche questa è una cosa che non ha riscontro in nessun paese che io conosca. Quindi, purtroppo, tu facevi riferimento alle mie possibili frustrazioni. Ormai le frustrazioni me le sono anche messe via, perché mi sono dato una ragione della loro fonte e della difficoltà di porvi mano. Grazie a tutti.